Buonasera a tutti, sono qui per colpa di Miguel Martinez che mi ha coinvolto qualche settimana fa quando siamo stati qui a fare la riunione del Comitato No Guerra Non Nato e io sono venuto volentieri, perché? Vi spiego perché. Io sono piemontese di nascita, genovese di educazione primaria e poi sono diventato moscovita per vent'anni e poi sono romano, quindi che centro con Firenze. Centro perché io sono un po' come diogene, vado in giro con la lanterna per cercare dei compagni di strada o che mi capiscono e parto da qui. Voi siete i miei compagni di strada, così mi considero, perché le cose che ho sentito dire sono esattamente le cose che penso da vent'anni. Forse chi di voi sa qualcosa di me sa che sono considerato un catastrofista e io sono un catastrofista e sono qui per dirvi perché quello che state facendo voi ci può forse, 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 cinque volte forse salvarci da una catastrofe, perché la vita in cui noi siamo è una catastrofe, è la preparazione della catastrofe. Sfortunatamente il grande pubblico non lo sa e non lo può sapere, perché noi abbiamo un sistema dell'informazione che è stato costruito in modo tale che la gente non sappia nulla. Vi ricordo soltanto una piccola cosa, abbiamo pubblicato come Pandora TV, io sono qui anche come direttore di Pandora TV, abbiamo pubblicato proprio ieri una specie di studio su come funzionano i sette canali della televisione italiana, poi vi spiego perché ve lo faccio questo racconto, ma è importantissimo, abbiamo guardato le cifre, abbiamo preso un mese di riferimento, il mese scorso, dal 14 al 14, a caso, e per un mese abbiamo guardato un gruppo di amici miei del laboratorio per l'alternativa, abbiamo studiato chi va in queste trasmissioni. Vi do un po' di cifre, due cifre, soprattutto mi hanno colpito tre. In un mese sono passati su tutti i talk show delle sette televisioni italiane, tre pubbliche, quattro private, sono passate 1.678 persone. Poi guardando meglio, cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che di queste 1.678 persone non contano assolutamente niente. 30 persone, 30 persone in un mese sono apparse in tutti i talk show delle televisioni italiane, cioè hanno formato l'opinione pubblica 30 persone, 340 volte. Solo loro. Solo loro. Vedete? C'è un gruppo di persone che viene demandato per decidere per tutti, o per influenzare l'opinione pubblica di tutti. 30 persone. Chi sono? Sono degli esperti? No, sono dei farabuti, dei cialtroni, quelli che vedete ogni sera, sono dei bugiardi che vengono lì per sostenere una sola agenda, una sola agenda. L'agenda di tutti questi 30, a cominciare dai conduttori, Lillie Gruber prima di tutte, vengono per sostenere l'agenda del potere che crea la catastrofe. Ecco perché vi faccio una proposta. Nessuno di voi questa mattina ha parlato di una cosa fondamentale. Tenetela presente, l'informazione. Una delle richieste che questa lista dovrebbe fare è di avere una radio. Fabrizio, voi dovete avere una radio e dovete chiederla. E dovete avere una televisione. No, perché se no, sono loro che parlano. Perché noi facciamo tanti discorsi e poi siamo un certo gruppo ristretto. E gli altri decidono tutto perché la grande massa sente solo questi 30 farabutti che hanno il potere di dire la loro opinione. E gli altri non ce l'hanno. Questo è il punto. Secondo me è uno dei programmi futuri. Lo capisco che non è facile. Perché bisogna dire che questa televisione deve essere pubblica. Deve essere pagata col denaro pubblico. Deve essere finanziata col denaro pubblico. Questo è un passo cruciale. Perché ogni volta che si ha uno di questi strumenti, voi dovete immaginare subito che viene moltiplicato per 50 mila, 100 mila. Quelli che vanno in automobili lo sentiranno. Lo so che non è sufficiente perché il mostro che abbiamo di fronte sono sette televisioni nazionali che dicono tutte la stessa cosa da 50 anni a questa parte. Voi capite come si cambia. Questo è il primo punto che volevo proporvi. Il secondo punto che volevo proporre è il discorso che io mi cito, ma è semplicemente per dire che siamo d'accordo. Io ho scritto qualche anno fa un libro intitolato Invece della Catastrofe. E uno dei capitoli di questo libro, cruciale secondo me, e per me è stata una scoperta e da allora lavoro su questo, è il discorso della difesa del territorio. Noi viviamo in una società dove la democrazia non c'è più. Questa è la mia ferma convinzione. Quello che viene chiamato democrazia è un grande inganno. La democrazia è stata trasformata in una specie di cerimonia, priva di contenuto. Allora il problema è, se il mondo va verso la catastrofe, come fermarli questi signori? E io ho pensato, guardando all'esperienza della Val di Susa, che c'è solo un modo. Bisogna che un numero sempre più ampio di persone capisca che il punto chiave è la difesa del proprio territorio. Per una ragione in fondo anche pratica dal punto di vista politico. Nel senso che se noi non ci organizziamo così, saremmo repressi. Per adesso no, perché ancora il cerimoniale funziona. La gente crede ancora di vivere in democrazia. Ma quando le cose diventeranno difficili e avverrà tra poco, questo che non capisce molta gente, neanche dei nostri amici, è che non è una cosa lontana. Quello che sto dicendo arriverà fra poco. Noi saremmo repressi perché le risorse stanno finendo, perché l'ambiente si sta deteriorando, perché il mondo si sta dividendo tra i ricchissimi che sono pochissimi e i poveri che sono ormai miliardi. E a un certo punto succederà che bisognerà prendere delle decisioni. Loro dovranno prendere delle decisioni. E a questo punto loro imporranno la legge del bastone. Non pensiamo che saranno gentili nei nostri confronti. E perché la difesa del territorio è importante? Perché se milioni impareranno a difendere il proprio territorio sarà impossibile reprimerli tutti. E quando dico, io perché faccio l'esempio della TAV? Perché 30 comuni, 60.000 persone hanno imparato a difendersi. E da 30 anni quell'opera non viene fatta perché 30 comuni e 60.000 persone hanno imposto la loro agenda. Lo so, la battaglia è ancora aperta, magari qualche buco lo faranno ancora, ma quel progetto non si farà. E non si farà perché l'hanno deciso 60.000 persone, facendo diventare il loro discorso un discorso nazionale. Ecco, se noi faremo 50, 100 punti di difesa del territorio, noi non saremo più reprimibili, perché non avranno le forze per reprimerci. E quindi, da un punto di vista proprio militare, io sto parlando di questo, da un punto di vista militare. Perché, come dicevo prima, ciò che io sto dicendo è imminente. Qualcuno qui ne ha parlato. Io ve cito uno solo dei motivi per cui è imminente. Ormai si sta parlando del 5G. In realtà noi siamo già dentro il 4G e prima eravamo dentro il 3G, ma sfugge quasi a tutti ancora. Qualcuno ha fatto dei cenni, ma è molto più grave di quello che ho sentito. Noi stiamo andando in una situazione in cui, da qui al 2024, secondo le previsioni dei cinesi e degli americani, il 40% della popolazione mondiale sarà collegata col 3G, col 4G scurale, col 5G. Il 40% della popolazione mondiale, che vuol dire che nelle grandi città e nei centri avanzati sarà il 90%. Il che vuol dire che tutti noi saremo sottoposti a un bombardamento di onde, di bassissima, di altissima frequenza, con delle antenne messe a 100 metri l'una dall'altra, noi saremo soggetti a un bombardamento che non tocca soltanto le cellule del nostro cervello, perché sarà un bombardamento dell'ordine dei 5 nanometri. E siccome un atomo è quasi un nanometro, questo bombardamento avrà a che fare con la nostra coscienza, con il nostro pensiero. E chi controllerà l'emissione di queste frequenze sarà in condizione di modificare il nostro pensiero. Questo è quello che non si capisce. E naturalmente non è solo un problema del pensiero, perché siccome noi siamo una comunità di qualche miliardo di cellule, tutte le cellule del nostro corpo saranno sottoposte a questo bombardamento quotidiano, sistematico, 24 ore su 24, al quale si potrà decidere anche quanti di noi dovranno morire. Non sto parlando di una cosa che avverrà fra una generazione, sto parlando di una cosa che avverrà in questa generazione e che riguarderà tutti i nostri figli. Solo una considerazione vi propongo. La considerazione è quella che concerne proprio la vita, non è il discorso del benessere. Qui è il discorso della vita e qui è il discorso del progresso. Ci diranno che questo è il progresso. E noi siamo quindi giunti pian piano senza accorgersene a un livello in cui la parola progresso significherà morte. Esattamente così. Morte. E allora una delle cose da ammettere è che il 5G non si deve fare. Perché questo progresso è la morte. E bisognerà fare in modo di dirlo. Ci sono la possibilità di rinchiudere. Sì, Firenze può non essere toccata da questo. Se lo decide Firenze. Ecco un punto dove potranno reprimere. Perché se Firenze decide questo ci getteranno addosso, Firenze o da qualunque altra città o in qualunque altro quartiere ci getteranno addosso la voce, la nomea che noi siamo contro il progresso, che siamo retrogradi. Cercheranno di isolarci, di dirci che siamo dei fascisti, no? Come qualcuno ha detto tutto questo discorso sull'antifascismo che serve per coprire, di facciata. Faranno le stesse cose con noi, ci faranno parire come dei reazionari. E invece sarà l'unica arma di difesa. Ecco, sono venuto per dirvi alcune di queste cose. Sono solo alcune. Io non sono di quei grettini che vanno in giro dicendo che adesso comincia al discorso della difesa del territorio. Non è vero. Questa è un'operazione costruita da Davos, dai centri del potere per colpevalizzare tutti noi, per dire che siamo noi responsabili di questo. Sono gli inquinatori che hanno organizzato questa operazione. Stateci attenti. Gli inquinatori stanno organizzando la lotta per la difesa del territorio. Per accusare ciascuno di voi di avere deteriorato il territorio. Loro, che lo fanno ogni minuto. E che non lo faranno mai. Perché non si può fare. Perché passare a una società civile dove si possa vivere in pace e sani significa cambiare tutto il sistema produttivo del mondo. E siccome nessuno lo vuole fare e nessuno è incapace di farlo, questi slogan restano nel vuoto. Se non ci sarà la difesa del territorio. Dove? Per territorio intendo dire innanzitutto la nostra testa. La nostra testa. E i nostri pensieri sono il nostro territorio. Buona fortuna a tutti. Sono contento di essere venuto qui. Se farete delle cose invitatemi. Io ci voglio venire come direttore di Pandora TV per filmare quello che state facendo.